Ciao ragazzi, buonasera, eccomi qui per un nuovo video, grazie di esserci, un ringraziamento grande ai miei amici della ferramenta utensileria affilatura Cervellin che si trovano a Tezze sul Brenta, mi raccomando andate a trovarli. Passiamo direttamente al nostro accessorio, questa volta non parliamo di un elettro utensile ma di un accessorio. Io qualche tempo fa, e ormai saranno 3 o 4 mesi, mi sono imbattuto in un mercatino dell'usato, in un negozio, anzi non un mercatino, un negozio dell'usato, dove ho trovato questo oggetto qui. Io mi sono detto, ma questo non l'ho mai visto, probabilmente è qualcosa di fuori produzione, fuori catalogo da tanti anni, aspetta che visto che costa pochi euro me lo porto a casa, così faccio un video vintage, cioè di uno strumento che ormai è obsoleto e che non esiste più. Tornato a casa, invece, andando a guardare nel sito ufficiale della DeWalt, mi sono reso conto che è tuttora in produzione, tuttora in catalogo, tuttora venduto regolarmente, se ne vendono, e che comunque costa 5 o 6 volte quello che l'ho pagato io. bene, buono a sapersi, a questo punto io vi faccio il video, non vintage come volevo fare, ma di un prodotto che potete ordinare, se non lo trovate in negozio, tranquillamente. Allora, cos'è, 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 cos'è? Sembra un porta inserti così pacciocone, in realtà è un porta inserti con una doppia punta. ok? Questo non è il solito attacco esagonale, ma è più grosso. Qua, invece, c'è un attacco esagonale. Allora, intanto, vediamo subito la sua funzione principale. Tiro qua, ok, ed esce questa punta. E lo metto dentro dall'altra parte. Aspetta, eh? Eccolo qua. Praticamente cosa succede? Che tu lasci questo sempre sul tuo trapano avvitatore e qua hai la punta per forare e la tua, è il tuo inserto per avvitare. In questo caso è un PH2, no, è un TZ2, ok? E quindi tu fai i tuoi fori, lo giri e fai le tue avvitature. Ora ci sono alcuni problemi che vi spiego. Intanto questa è da 3, da 3 questa punta. Io con una punta da 3 non faccio i fori per poter avvitare. Io uso quelle da 4 e mezzo, ancor meglio quelle da 5. Dopo svaso e dopo metto dentro la vite. Con una punta da 3 non mi va bene, perché la vite, la filettatura della vite comunque farebbe ancora presa sul pezzo che ho forato, quindi non mi va bene. Sono quindi andato a cercare delle punte con l'attacco esagonale da 5. Le ho trovate sì, ma erano troppo lunghe, non ci stanno. Una volta che il tento di rinfilarlo qua dentro non va a chiudere perché tocca sul fondo, ok? Quindi questa è praticamente inutilizzabile, seppure sarebbe anche carina visto che ha già lo svasatore incorporato. O meglio, non inutilizzabile, ma utilizzabile con viti molto piccole che io raramente uso. Io a volte uso le 3x16, ma pochissimo. Normalmente uso viti che mi richiedono l'inserto PZ2, raramente PZ1, mai PZ3. Torx non ne uso praticamente. Punta piatta, cioè a taglio neanche, ecco, PZ2 è quella che uso più di tutte. Quindi cosa, cosa, cosa mi sono inventato? Cosa mi devo inventare per poterlo usare? Visto che così non lo utilizzerai troppo. Mi sono, ho provato ad inventarmi di, vedete che qua intanto c'è una brugola che va mollata, in modo che questo si toglie, ok? E questo lo mettiamo via. Mi sono detto, se non posso avere la punta con lo svasatore, però mi piacerebbe almeno averci lo svasatore. Prendo lo svasatore piccoletto, lo metto qui in modo che dopo che faccio il foro con una punta, dopo con questo svasatore e inserto nella stessa punta, vado bene comunque. E allora io qua ho tre svasatori della Wolfcraft. Il grande ovviamente non ci sta, perché qui non ci entrerebbe mai. Mi sono detto, forse il più piccolo che trovo ci entra. Ed effettivamente ci entrerebbe anche, ma non arriva fino in fondo. Allora lo mettiamo qui, lo fermo. No, io vi faccio vedere anche tutti i tentativi che ho fatto, onde evitarvi che voi fate gli stessi tentativi. Vi dico già come va, è così vi evitate movimenti e perte i tempi inutili. Quindi così, però qua non si riesce a difilarlo completamente dentro. Perché? Perché in fondo stringe e non ce la fa. Anche il più piccolo che ho trovato comunque è troppo grande per questo specie di porta inserti. Quindi in definitiva io cosa faccio? Qui ho degli inserti lunghi. Allora considerate che qua, qua dentro lo spazio in cui va a sprofondare la punta è poco. Quindi quando questa la metto dentro è arrivata e via. Qua è tanto di più, perché originariamente era previsto per l'attacco della punta perforare. Se questo lo butto qua dentro, posso buttar via tutto perché dentro c'è la calamita, questo sparirebbe completamente dentro, non riesco più a tirarlo fuori e quindi lo butterei via. Quindi questo con l'inserto corto lo metto qua. Da questa parte ci vuole un inserto lungo. Allora io qua ho dei inserti Makita, quindi se da questa parte ho il PZ2, dall'altra parte posso mettere il PZ1. Vediamo se riesco a toglierlo. Eccolo qua. Inserti Makita che sono fra l'altro adatti per l'uso con trappano con la vettatura impulsi. In questo caso non ci interessa, ma insomma questi ho e questi rimostro. Ok, ed ecco qua. Vedi che dai trappi le parti spunta più o meno uguale. Posso metterlo dentro tranquillamente. Eccolo qua. Sia da una parte che dall'altra. Eccolo qui. E ho le due punte che uso di più. Quindi lasciando sempre su il mio questa specie di porta inserti, io senza andare a cercare altre punte, ho la necessità soltanto di girare e ce le ho sempre appresso. Tu mi dirai, vabbè ma cosa ci vuole? Ti ripori questa e ti metti dentro quell'altra. Sì, se ce le ho vicine, se ce le ho vicine. Oppure devo tenerla in tasca, oppure da qualche altra parte, oppure nella calamita che quasi tutti gli avvitatori hanno, quasi tutti no, ma buona parte ce li hanno. Ma questo è comunque secondo me un sistema pratico. PZ2, PZ1 e io sono a posto. Guarda qua. Quindi lo metto sul mio bel avvitatore della Ingersoll Rand. Guarda qua. Questo io adesso lo otterrò come porta inserti definitivo. E così io ho questo discorso qua. Senza andare a cercare nella valigetta degli inserti, visto che uso sempre quei due lì. PZ1, PZ2. Tac. Tac. Bene. Ok, ottimo. È un po' ingombrante. Adesso lo tiro via di nuovo perché perché quell'avvitatore lì è pesantissimo. Così che ve lo mostro meglio. Tutto fatto bene. Bene. Qua, per estrarre questa parte che si può estrarre, appunto, bisogna tirare avanti questo ogni volta. Tac. Eccolo qua. C'è un po' di gioco, sì, ma non ha importanza, non ci interessa. Un oggetto fatto bene, che io ho pagato veramente pochi euro. Eccolo qua. Ora, se lo volete invece usare come era previsto originariamente che fosse usato, ecco che voi lo usate così. Così nasce e così potete farlo morire. Così. Tiro fuori, butto dentro, così. Ora c'è una cosa da dire. Di questo ce ne sono diverse misure. Perché io neanche lo sapevo. Io sono andato a guardare, se guardate nel sito della DeWalt, di queste ce ne sono diverse misure, con la punta più grossa, più fine, già con lo svasatore incorporato. Quindi, se volete la serie, adesso non c'è più il catalogo, la serie, perché c'era una valigetta con 5 o 6 di questi, con la punta più grande, l'inserto giusto, già previsti. Quindi, la serie completa con valigetta non la vendono più. Vendono i singoli, le singole misure. Quindi, se eventualmente volete questa con la PZ1 e quell'altra con la punta più grossa e la PZ2, per esempio, a seconda del lavoro che dovete fare, può essere una cosa interessante. Ma abbiamo sempre lavorato senza questa cosa, possiamo giustamente continuare a lavorare senza complicarsi la vita. ognuno è libero di fare quello che vuole. Io lo trovo un bello oggettino e credo proprio che mi sarà utile, anzi, mi sta già essendo utile, perché non in configurazione originale, ma nella configurazione che vi ho mostrato prima, eccola qua, io ho i due inserti che uso più comunemente. E qua. Io, vabbè, non c'è molto da parlare dell'oggetto in sé, nel senso, qua è una parte ben zigrinata, questa parte gialla è gomma, così come gomma è questa parte. Il resto, sì, vabbè, è fatto bene, ma poi alla fine è... è più nemmeno che in grande è quello che sono i porta inserti con la parte che scorre qua, insomma, anche se dopo ha questa doppia modalità. Io, per quello che l'ho pagato, va benissimo, e sono contento. Pagarlo la cifra che si richiede, che ho visto i prezzi online, non lo so, bello è bello, ma costicchia. Cos'altro dirvi? Avevo un'altra cosa da dirvi, ma no, ma me la sono dimenticata. Ah, sì, il nome, il nome dello strumento. Allora, qua abbiamo un po' di etichette, da usare con punte per fuori pilota, le punte per svasare, DeWalt senza allentare, quindi DeWalt fornisce quelle punte lì, che io non ho trovato, grossa ma corta, non le ho trovate. Senza allentare, se la remandino, permette di esigliare fuori pilota, svasare, e dopo averlo invertito, di avvitare. Utilizzabile con la maggior parte dei trapani elettrici, ma io direi anche con tutti, visto che... Bene, il... nome dell'articolo è il DT7603, quindi vabbè, abbiamo già detto che è un DeWalt, Domodosso, la Torino 7603. Vi mostro l'etichetta qua, la confezione qua, guarda qui, la mostro anche nella parte posteriore. Vi mostro per l'ultima volta lo strumento, anzi, lo mostro anche montato sul... sull'avvitatore. Non vado a provarlo, ad avvitare una vite, perché... sì, avviti e basta, non c'è niente da far vedere. Bene, detto questo, io non... mi resta che ringraziarvi, salto via il discorso pro e contro, consigliato, non consigliato, vi ho spiegato come funziona, vedete voi se può fare al caso vostro. Quindi vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, ringrazio i miei amici della ferramenta, utensilieria, affilatura Cervellin, che si trovano a Tezze sul Brenta, mi raccomando, fateci un salto, e ci vediamo al prossimo video, d'accordo? Ok, ciao!